14 febbraio sono arrivato a Kukul Creek fortunatamente il permesso di entrata al parco era ancora valido quello che ho fatto ieri e adesso sto facendo la World Walk cioè la passeggiata delle balene qui pare che una volta tanti anni fa fortunatamente ci fosse un'attività di balenieri in florida ecco adesso sono qui a passeggio e potete vedere insomma qual è il percorso e dove si staglia sono una specie di bosco sulle rive del mare non penso vedremo balene però ce le posso mettere dopo con photoshop questo posto è veramente alla fine del mondo nel senso che più a sud di questo c'è il polo sud